amici di atti sport ventiquattro bentornati nuova puntata di aspettandola il campionato corre veloce verso la sprint finale la trentunesima giornata promette come sempre scintille ma non perdiamo tempo andiamo subito a salutare le colonne portanti della nostra rubrica il bentornato affettuoso a Gennaro Perna ciao Gennaro ciao Andrea e ti lascio introdurre Antonio e mi rubi sempre il mestiere l'affettoso ben trovato anche Antonio Rea ciao Antonio anche a te un saluto a voi grazie dell'affetto e ovviamente un saluto a chi ci ascolta Gennaro parto da te la sfida clou secondo me si gioca domani pomeriggio all'olimpico c'è il derby Roma Lazio De Rossi contro Tudor poi dopo ce ne parlerà Antonio che partita vedremo allora prima di tutto una partita affascinante perché il primo derby eh per De Rossi da da allenatore ed è un allenatore che ne ha giocati tanti da capitano e da protagonista nella sua cittadina eh romana eh e anche se non era il primo derby per per Tudor da allenatore oltre che da calci che da calciatore non ne ha mai disputati quindi sarà per tutti per entrambi una prima volta piccolo vantaggio anche eh per De Rossi che ha giocato anche dei derby in Argentina che non sono mai una banalità nella sua ultima esperienza calcistica eh detto questo una Roma che che è sempre lì a rincorrere quello che per ora è un quinto posto quindi che potrebbe essere una una un piazzamento utile per la prossima Champions League una Roma che come abbiamo detto più volte dopo l'era Murigno ha svoltato con con De Rossi ma un derby eh fa sempre storia a sé è un derby che eh sono partite nelle nelle quali non bisogna guardare la classifica anche se la Lazio nell'ultimo turno ha superato il Napoli ha battuto la Juventus nell'ultimo turno di campionato seppur poi la Juve si è tra virgolette vendicata in Coppa Italia quindi sono due squadre che arrivano bene due squadre che hanno delle convinzioni entrambi hanno eh cambiato il proprio allenatore forse qualche mese fase qualcuno ci avesse detto che Murigno e Sarri non sarebbero state sulle panchine di questo derby nessuno ci avrebbe creduto invece le società hanno deciso di rivoluzionare quanto stava accadendo secondo me facendo un passo importante ma anche condivisibile è giusto probabilmente e quindi sarà una partita interessante da gustare in un sabato tutto diciamo eh concentrato su questo spettacolare match Antonio lo diciamo prima che duello sarà quello tra i due grandi debuttanti in panchina di questa stracitta di eh mi e per descrivere questo duello mi leggo a quello che diceva Gennaro no ehm fino a poco fa nessuno si immaginava che eh nel derby di ritorno gli allenatori sarebbero stati diversi la cosa paradossale è che si sono invertiti anche i sistemi di gioco no? Prima eh la Lazio di Sarri giocava con un 4-3-3 mentre eh la Roma di Murigno giocava con una difesa a tre e poi vabbè diciamo che volendo la inquadrare era un tre quattro due uno tre cinque due però poi era un tre poi tutti davanti fate qualcosa eh invece adesso è proprio il contrario cioè la Roma si è sistemata con un quattro tre tre che però in fase di di attacco di possesso diventa un quattro due tre uno con Pellegrini che scala a ridosso eh dei tre quartisti mentre eh Tudor ha impostato proprio un diciamo la squadra come è il suo credo tattico no? Tre tre quattro due uno tre cinque due a seconda poi dei movimenti del famoso calcio fluido e questo questo eh è importante perché perché la Roma sembra aver già assimilato eh e anche più tempo che sta con De Rossi ma sembra aver già assimilato i movimenti del resto l'abbiamo sempre detto no? Una squadra che poteva disporre di Di Bala, di Lukaku, di Pellegrini, di El Sharawi e di tanti altri calciatori eh era proprio un peccato vederla giocare male lì davanti. Invece adesso con De Rossi hanno ritrovato entusiasmo, hanno ritrovato il gioco, hanno ritrovato la manovra e stanno avendo un un rendimento molto alto. La Lazio invece nonostante la vittoria diciamo di campionato avuta contro la Juve e il primo tempo abbastanza brillante in Coppa Italia che poi si è chiusa con la vittoria del bianconero per due a zero vedo una squadra piuttosto eh diciamo eh ancora imballata e poi secondo me eh Tudor col suo modo di giocare ha ha tolto un po' di fantasia perché chiaramente non avendo più eh Zaccagni non avendo più eh Felipe Anderson che 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 attaccavano sugli esterni ma adesso giocano quando giocano perché Zaccagni non sta nemmeno giocando quando giocano giocano più all'interno quindi eh non vediamo più quelle manovre sulle fasce che erano tanto care a state che valorizzavano appunto i due giocatori che 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 dicevo prima per cui tatticamente la vedo la vedo così e vedo favorita secondo me la Roma sia per un tema proprio di entusiasmo ma anche di eh aver rodato molto bene già già i meccanismi anche se condivido in pieno che i derby già le partite normalmente vanno giocare sempre ma i derby sono storia a sé possono cambiare per per un dettaglio quindi non mi sbilancierei su un su un pronostico. Gennaro la Juventus riceve la Fiorentina nella sfida tra le vincitrici delle semifinali d'andata di Coppa Italia quale emozioni ci regalerà la gara dell'Allianz? Allora una Juventus che ha saputo diciamo risollevarsi nel turno infrasettimanale di Coppa come dicevi tu interessante anche la vittoria della Fiorentina per uno a zero nell'altra semifinale però è una Juve che è in uno stato eh in campionato almeno in uno stato confusionale una squadra che ha perso già quelle poche certezze che aveva eh di un allenatore che secondo me sta via via piano piano lentamente arrivando al capolina della sua avventura in bianco nero eh la Juve ha all'obiettivo di portare a casa quella che è una certezza a mio parere che il piazzamento Champions che sia il terzo o addirittura il quarto una piccola debacle se dovesse essere il quarto o essere addirittura superata dal Bologna che è la squadra che forse gioca al meglio al calcio in questo campionato e quindi io penso che la Juve debba vincere contro la Fiorentina però l'italiano è un allenatore che nella sua storia ha dimostrato comunque di giocarsela con tutti di caricare i propri umili e poi eh lo scontro tra Juventus e Fiorentina non è mai uno scontro banale nemmeno in termini del diciamo del tipo nel senso che sono due squadre che eh hanno una vivacità diciamo dei tifosi rispetto a questa partita un interesse particolare eh quindi detto questo la Juve non può perdere eh nemmeno pareggiare a mio parere deve cercare di vincere perché se dovesse essere superata anche la Bologna in classifica per me sarebbe veramente e già lo è probabilmente il bollino finale tra gli allenatori che giocano al calcio e gli allenatori che al calcio non ci giocano quindi la da un lato di Acomotta che con un Bologna sicuramente con una rosa più modesta almeno sulla carta rispetto alla Juventus eh se riesce addirittura a superarla in classifica sarebbero due piazzamenti nel Champions eh ottenuti ma con delle rilevanze totalmente diverse quindi vedo la Juve non favorita ma con la con l'obbligo di vincere a mio parere Antonio quali linee guida seguirà il duello Allegri italiano? Sono due modi di intendere il calcio completamente diverso già lo accennava Gennaro no? La nuova linea di degli italiano contro la il diciamo i sistemi tra virgolette consolidati stavo dicendo antiquati ma avrei usato un aggettivo abbastanza fuori luogo però comunque ehm Allegri con il suo tre cinque due eh con il quale diciamocela tutto lui ha costruito le sue fortune di 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 allenatore però un conto è avere eh Barzagli, Bonucci, Chiellini e Buffonni in porta è un conto avere i gatti senza nulla togliere al calciatore quindi lui insiste su questa su questa linea sta avendo risultati fino all'ultimo periodo perché a gennaio ricordiamoci fino allo scontro diretto con l'Inter la Juventus era candidata a contendere il tricolore all'Inter adesso si trova a lottare per il quarto posto quindi è una è una caduta libera che però voglio dire diciamo è in linea con quello che era eh l'obiettivo di inizio stagione dall'altra parte c'è eh la Fiorentina di 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 italiano che invece c'ha eh un modo di giocare completamente diverso dicevamo della degli di Allegri bari centro basso e di partenza e sfruttando questo periodo la la vena realizzativa di Vlauic ex di turno tra l'altro e Chiesa lo stesso fa lo stesso che è un ex non troppo amato da dopo il passaggio alla Juventus invece la squadra di italiano c'ha un bari centro alto linea linea quattro quasi a ridosso del centro campo eh quattro due tre uno per dirla tutto perché avendo acquisito finalmente un attaccante eh diciamo che si può definire tale e di Belotti ha ha riportato Beltran nel suo ruolo secondo me naturale che è quello di sottopunta e quindi ha impostato questa squadra molto corta quattro due tre uno con pressing alto e eh sovrapposizioni sulle fasce cosa che potrebbe soffrire la Juventus perché abbiamo visto la Fiorentina in Coppa Italia contro l'Atalanta una squadra brillante che vinceva tutti i duelli arrivava prima sulla seconda palla eh ha ha lottato e secondo me il risultato di uno a zero è dovuto soprattutto alla grande partita fatta da Carmesecchi peraltro che si è ripetuto dopo quella fatta al Maradona contro il Napoli quindi la vedo la vedo così con la Juventus che deve stare attenta e deve non deve smarrire diciamo le distanze tra i reparti perché la Fiorentina ha dei giocatori come lo stesso Beltran che dicevo prima Bonaventura gente sottile gente molto rapida che che ti punisce che ti punisce in velocità per cui la la Juve dovrà giocare ancora di più compatta per per evitare di prendere di prendere eh diciamo gol dall'altro lato chiaramente la linea alta di italiano può favorire le ripartenze come dicevamo prima e Blauic e Chiesa in questo periodo con gli inserimenti di Rabiot gli inserimenti degli esterni Cambiaso eh e Costici se dovrebbe essere lui se dovesse essere lui eh possono possono avere vita facili eh da questo punto di vista quindi una partita molto complicata da inquadrare tatticamente però vedo in questo momento meglio la Fiorentina. Gennaro che tipo di rischi presenta per l'Inter la trasferta di Udine? Allora l'Udinese è una squadra che deve è ancora in lotta per salvarsi una classifica quella in coda abbastanza corta eh che rischi comporta l'Inter è padrona di questo campionato sinceramente una squadra che può subire soltanto tra virgolette dei cali di tensione dei cali di concentrazione altrimenti sarebbe favorita in ogni partita e lo è anche in questa è chiaro che come dice spesso Antonio le partite vanno giocate però è una partita diciamo dove i tre punti pesano probabilmente molto più per l'Udinese che per che per i nero azzurri che però paradossalmente hanno nel Milan diciamo l'avversario più vicino un avversario che comunque nelle ultime quattro parlo del Milan ha vinto le ultime quattro partite quindi come dire un eventuale passo falso darebbe una leggera maggiore motivazione anche al Milan per tentare un ultimo impossibile a mio parere un ultimo impossibile rincorso a Scudetto detto questo tutte le partite vanno a giocare adesso è un periodo per per l'Inter abbastanza complicato perché essendo uscito dalla dalla Champions ha come un obiettivo il campionato di fatto vinto e lì deve trovare le motivazioni e le sue migliori prestazioni quindi partita interessante io vedo l'Inter favorita ma l'Inter per me è favorita in tutte le partite che giocheranno alla fine dell'anno. Antonio il Milan invece ospita al Meazza e Lecce per i rossoneri può esistere il rischio di distrazione con vista sull'Europa League giovedì c'è il primo derby con la Roma? Direi di no il Milan ormai ha acquisito diciamo la mentalità della grande squadra diciamo Pioli Pioli che è sempre secondo me molto distrattato e a cui non viene dato merito per quello che ha fatto nella sua carriera di allenatore invece secondo me è un ottimo allenatore ha dato a questa squadra un'impronta anche da un punto di vista mentale per cui non credo alle distrazioni diciamo dei rossoneri tra l'altro l'avversario ha cambiato da proprio allenatore gioca in maniera un pochettino più quadrata rispetto a prima però è una squadra che segna poco e che secondo me non dovrebbe non dovrebbe pensiedere più di tanto la squadra rossonera che come diceva prima Gennaro viene da quattro vittorie consecutive sta giocando bene eh ha ritrovato i suoi fuori classe no in particolare Leao e e Teo sulla sinistra che quando sono in forma sono praticamente immarcabili ha diciamo confermato qualcosa che io avevo detto già inizio di campionato mi piace tanto l'off to see che mi piace in quella posizione a ridosso della punta e infatti sta avendo un rendimento anche a livello di disegnatore molto molto elevato quindi il Milan ha una rosa di tutto rispetto soprattutto in attacco quindi non penso che eh si distragga al pensiero del 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 derby europeo con la Roma ma eh vuole continuare a risalire in classifica consolidare il secondo posto e e diciamo eh procrastinare quanto più possibile la festa ai cugini dell'Inter Gennaro il Napoli riparte da Monza l'accesso a una competizione europea è ancora possibile per gli azzurri oppure si pensa già solamente alla prossima stagione è una domanda la tua complicata allora matematicamente è sicuramente possibile ancora l'accesso ad una ad una competizione europea ci sono otto partite ventiquattro punti il vero tema è che sicuramente il Napoli dopo l'ultimo turno ha a mio parere definitivamente abbandonato la rincorsa alla Champions quindi si parla di Europa ma non si parla sicuramente di Champions ma la cosa diciamo che eh lascia perplessi sul sul tema Napoli è che non sono i ventiquattro punti ancora a disposizione ma come questa squadra sia quest'anno riuscendo a distruggere tutto ciò che è di buono qualsiasi allenatore qualsiasi partita riesce a mettere talvolta di positivo nella stagione è una squadra il primo gol che si prende dall'Atlanta dove ci sono cinque difensori su cinque praticamente fermi danno proprio l'indice di una squadra deconcentrata demotivata e io adesso comincio ad essere convinto che i maggiori i maggiori tra virgolette colpevoli di questa stagione negativa siano proprio i calciatori eh quei calciatori in cui secondo me Luciano Spalletti aveva letto eh il fatto di essere arrivati al massimo eh delle loro motivazioni e le loro possibilità quindi è è complicato analizzare il Napoli la la partita di Monza dall'altro è molto complicata scusa il gioco il mio ripetere la stessa parola però è complicata anche perché l'avversario è ben quadrato ben organizzato palladino è un ottimo allenatore quindi vedo difficile la partita di Monza vedo complicato ma possibile il ragionecimento di una posizione europea non Champions League però il vero dilemma è capire cosa stia capitando nella testa dei calciatori in tutto l'ambiente del Napoli Antonio chiedo a te un flash in chiusura sugli impegni del Bologna a Frosinone e dell'Atalanta a Cagliari il Bologna è una splendida realtà eh sta sta giocando veramente bene ti ruba l'occhio hanno l'entusiasmo hanno hanno diciamo tutto per per essere la 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 sorpresa di questo di questo campionato e secondo me ormai a meno di un suicidio da parte loro hanno ottenuto otterranno un risultato storico per quelle che erano le premesse della della stagione no? eh oggi tutti diciamo parlano di Ferguson di Zirkzee eh e e di altri giocatori ma questo secondo me è molto merito di un allenatore che ha delle idee assolutamente innovative eh ottime per il calcio moderno e questo fa sì che ehm si valorizzi diciamo quello che è il capitale umano no? Perché poi abbiamo pure io lo io lo paragono un po' all'Atalanta l'Atalanta è una squadra che ha tanti giocatori buoni nessun fuoriclasse eh sono quei calciatori che messi in un sistema che funziona danno il centodici per cento di quelle che sono le loro potenzialità poi magari vanno in un'altra squadra e non mantengono le aspettative di chi di chi le acquista quindi il Bologna che fatta questa premessa sul Bologna eh secondo me eh il Bologna veramente continuerà in questo in questa cavalcata trionfale e la partita di Frosinone presenta sì delle problematiche però non vedo come la squadra sociara possa eh fermare questo 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 come dire questo treno in corsa poi magari il campo mi smentirà ma alla vigilia io mi sento di 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 dare per favorire il Bologna. Dall'altra parte c'è anche eh l'Atalanta che va a va diciamo in trasferta a Cagliari dove eh si fa sempre fatica no? Poi come il Frosinone anche il Cagliari deve conquistare dei punti eh per tirarsi fuori dalle dalle sabbie mobile della della zona retrocessione e di solito chi si deve salvare eh tenta il tutto per tutto soprattutto in casa quindi sono eh due due eh impegni assolutamente difficili però l'Atalanta lo vedo più eh complicata per l'Atalanta la vedo più complicata anche sia per l'avversario e sia perché viene da una partita giocata infrasettimanale dove eh la Fiorentina le ha messa alle corde e quindi sono state spese diverse eh energie fisiche e soprattutto mentali. Va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Gennaro Perne e Antonio Rea per essere intervenuti do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao ragazzi grazie. Ciao a tutti un saluto ai nostri spettatori. Ciao a voi e come sempre eh vi invitiamo a iscrivervi al canale dove ci sono sempre dei dei bei contenuti calcistici e nonno quindi iscrivetevi e un saluto a tutti voi.